Buonasera signore e signore, sono Ascio88, benvenuti quest'oggi nel primo countdown, nel meno 5 dei che ci avvicinerà appunto verso domenica, domenica in cui potrò registrare finalmente il primo episodio della nostra guida Pokémon Y quindi ho deciso di fare questo piccolo countdown in cui farò vedere e andrò a scoprire insieme a voi, spero, tutti i cambiamenti che sono stati apportati con Pokémon X e Pokémon Y Innanzitutto, quello più evidente ovviamente è che la grafica sarà tutta in 3D, ovviamente la nostra guida sarà in 2D normale perché il gioco comunque sia supporta anche il 3D e il mio DS funzionare ovviamente solo che credo che le riprese in 3D non vengano bene e quindi lascerò il 3D spento e giocheremo in modo normale Quindi andiamo a vedere quest'oggi, andiamo a vedere quest'oggi appunto gli starter che troveremo su Pokémon X e Pokémon Y, nel nostro caso solo in Y Il primo starter che andiamo ad analizzare ovviamente è Cespini, Cespini è il Pokémon di tipo d'erba che ha un guscio nella schiena coperto appunto da alcuni aghi, alcuni cosini appunto è un guscio molto resistente, assomiglia molto a una talpa, è un atteggiamento molto positivo come tutti i Pokémon d'erba e credo che sia anche quello un po' più facile da appunto allenare Poi abbiamo Killadin che è appunto una specie di Cespini gonfiata d'aria, sembra un palloncino con il naso da maiale Le spine che ha sul guscio, sul corpo diventano un pochino più resistenti e dure Ovviamente è un Pokémon sempre mite, credo che sia anche un pochino più forte soprattutto nell'attacco fisico E poi si evolve in Chesnaf, Chesnaf appunto cambia un po' aspetto in effetti, sembra quasi più un grizzly, un coso bianco Ha delle braccia gigantesche e appunto il Pokémon che si evolve da appunto Killadin in Chesnaf acquisisce anche il tipo Lotta È un Pokémon molto generoso e lo scudo che utilizza sulla sua schiena per proteggere gli avversari e per proteggere i compagni diventa ancora ancora più duro e molto più resistente appunto Quindi è un Pokémon di tipo d'erba molto molto forte E qui ci fanno vedere anche vari sprite appunto dei Pokémon in combattimento Eccolo qua E in questo caso ci fa vedere che il nostro Pokémon di tipo erba appunto impara anche Agodifesa Che è una mossa che protegge dagli attacchi fisici e nel caso va a respingere direttamente l'attacco al mid-tent E quindi recare danno al Pokémon che ci attacca Poi dopodiché abbiamo Fennekin che è il primo starter di fuoco appunto È una specie di volpe in cui ha delle orecchie molto grandi che emanano calore È un Pokémon capriccioso come ovviamente il Pokémon di tipo fuoco Che a livello 16 presumo che si evolva in Braxian Braxian è una volpe che sta in piedi, su due piedi Nella coda ha un rametto Infatti al Pokémon, alla prima evoluzione, alla pre-evoluzione Fennekin Gli piace sgranocchiare questi rametti E Braxian in realtà smette di sgranocchiare questi rametti E infila un rametto proprio nella coda che fa da effetto calmante Credo che al 36 si evolve in Delphox Delphox che è appunto una volpe in piena regola Che però assomiglia molto a una persona In effetti ha degli atteggiamenti molto umani E acquisisce anche il tipo Psico E utilizza appunto questi poteri psichici per controllare fiamme ad altissima temperatura E utilizzare credo la bacchetta per anche attacchi direttamente fisici con quella Appunto qua ci sotto ci sono degli sprite dei Pokémon E ha Magifiamma, questo attacco che infligge danni al bersaglio Riducendone al contempo l'attacco speciale Come vedete sembra la bacchetta di Harry Potter E poi per finire abbiamo Froakie Froakie che è il Pokémon di tipo Acqua Credo che anche sarà il mio starter Perché è uno dei Pokémon che mi ha colpito di più Come immagina, è molto carino E un mio amico che ha giocato a Pokémon X Ha detto guarda è veramente veramente molto forte questo Pokémon Infatti la Rana Che è appunto Froakie la pre-evoluzione Fa dei salti molto alti Ed è molto molto veloce Si evolve in Frogadier Che è sempre una ranocchia Però ha già l'aspetto di una ranocchia Un pochino più furba, attenta Un pochino con l'occhio lungo Un pochino più vispa Che poi si evolve in Greninja Greninja è l'evoluzione finale Acquisisce il tipo buio E ha appunto la particolarità di quando attacca Modificare il suo tipo Quando attacca con mosse di tipo Acqua è tipo Acqua Quando attacca con mosse di tipo Buio rimane Buio Quindi è un Pokémon molto particolare Un Pokémon Ninja con la sua lingua torcigliata al collo Quindi questi tre erano gli starter appunto che ci sono Molto particolari Sarà bello vederli in azione Credo proprio che io utilizzerò Froakie Salvo mi pia qualcosa e non lo faccio Comunque sia Spero che questa piccola maratona Verso la prima parte Che credo che sarà o domenica pomeriggio O al massimo la calicchere o lunedì mattina Vi sia piaciuta Quindi countdown Meno 5 alla guida di Pokémon Y Spero che vi sia piaciuto Come al solito votate, commentate, iscrivetevi Un ciao da S88 Ciao ragazzi